Praise the sun ragazzi Anche oggi vi porto una nuova guida Vi faccio vedere dove trovare il miracolo spada del sole E in più un extra nel frammento di fiaschetta Estus che Non si rifiuta mai Ok come potete vedere siamo di nuovo al santuario di Amana Come al solito qua ovviamente i vari nemici li abbiamo fatti fuori Almeno qui nel percorso principale per Evitarci rotture varie Però qui no Quindi ora velocizzerò il tutto ovviamente Non ho voglia di farvi vedere mentre facciamo fuori i vari nemici Compreso un ogre Ok a tra poco Rieccoci qui Ok l'ogre è stato fatto fuori Compreso i vari nemici attorno a lui E accendiamo una torcia come al solito per vedere la strada Qui è facile cadere In questo punto Quindi come potrete ben vedere è dietro l'ogre il nostro obiettivo Questa strada qua Vi sono altri nemici però ovviamente qua li faremo fuori un po' più velocemente Quindi evito di tagliare almeno questa parte Ok Qui stavo rischiando di cadere io Come potete vedere E' perfetto E' perfetto Anche l'ultimo è stato fatto fuori Ok Qui c'è il frammento di fiaschetta E qui il mio amico se ne va Ha finito l'incarico L'ha completato Ma comunque noi siamo arrivati al punto e quindi Apriamo Ed ecco qui al suo interno troviamo La spada del sole Bene ragazzi E anche per questa guida è tutto Ricordatevi Si ha lodato il sole E anche per questa guida è tutto